Oh, Darla. Cosa? Cosa? Non va? Non lo smetteva più di agitare quel sacchetto. Povero ciccio. Era il suo regalo dell'anno scorso. Ha fatto un viaggio sul Trans-Tualet Express. È una pescicida. Non posso andare con quella bambina. Devo tornare dal mio papà. Ah, papà! Aiuto! Sei incastrato! Nessuno lo tocchi. Nessuno lo tocchi. Mi puoi aiutare? No. Ci sei finito da solo e da solo ti tiri fuori. Ma, Brangia! Voglio vedere come se la cava, d'accordo? Calmati. Prima devi agitare le pinne e poi la coda. Non ce la faccio. Ho una pinna atrofica. Ma è stato un problema. Concentrati su quello che devi fare. Avanti! Perfetto. Ce l'hai fatta! Dall'oceano, come te, Brangia. Già. Conosco quello sguardo. A cosa stai pensando? Sto pensando che questa sera dobbiamo dare un vero benvenuto al ragazzo. Di un po', ce l'avrai un nome. Nemo. Mi chiamo Nemo. 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 Te lo stai mangiando. Siéntate in isca. Mi bello fa tocare questo. No, 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 no. Eh? Eh, cosa? Che c'è scritto? Tori! Sveglia, alzati, andiamo, alzati! Andiamo! Sono una blue-looking girl. Alzati! Attento agli scoli e mangiare i pesci! Tori! Chiè! Accidenti! Che polvere! La maschera! Dov'è la maschera? No! La maschera! Prendila! 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 Prendila!